benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di subnautica siamo finalmente ritornati con il ciclope alle caverne proprio alla resa dei conti adesso io credo che stiamo per fare una cagata ma io voglio entrare dentro con il ciclope abbiamo un'esca già pronta fatemi controllare voglio essere sicuro ok quindi se quel leviatano chiudiamo qui se quel leviatano si irrita noi lanciamo un'esca e speriamo che lui vada a prendersi l'esca speriamo perché se no sono cazzi comunque vada male che vada ho installato anche l'upgrade degli scudi vediamo se si vede eccolo qua con questo qui posso attivare uno scudo che consuma sì tantissimo la nostra energia del ciclope ma ci permette di essere completamente vulnerabili per un tot di tempo ora fatemi vedere quanto siamo vicini al fondale tantissimo siamo vicini al fondale a no 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 non poi così tanto perché questa è la coda è la chiglia è parecchio vicino al fondale parecchio 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 ok io direi di accendere il motore andare piano piano e attivare la corsa silenziosa magari non attiriamo quelle viatano magari teniamo i fari spenti e se si mette male spariamo risca il rumore è al minimo sarà un casino ragazzi sarà un casino oddio che in realtà la cosa più intelligente sarebbe ah non posso accendere i fari con la corsa silenziosa la cosa più intelligente sarebbe lasciare il ciclope qua eccolo là giù già si vede lasciare il ciclope qua e andare solamente con la muta pro ma anche perché mi sa che col ciclope qua dentro non ci entriamo sti ramici bloccano guarda mi costringe a passare da destra guarda guarda vediamo se ci sbatto ci vado piano 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 non dovrei fare danno ma credo di sì ma credo di sì che ci sbatto cioè ci sono apposta sì ok dobbiamo passare di qua dritto in faccia alleviatano fantasma ok qui forse piano eccolo lì guardalo lì ma che fa ci si rigira qui dentro ragazzi è arancione fermi immobili noi non esistiamo noi non esistiamo è molto vicino ma non si aggra quindi vuol dire che molto probabilmente quando noi siamo oh mio dio ma stiamo succhiando tutta l'energia del ciclope che quando noi siamo nel ciclope e non facciamo rumore gli animali non si aggrano al ciclope ma guardalo lì cioè ce l'abbiamo accanto eh provo a spostarmi un po' scusa se tolgo la cosa silenziosa no la chiglia diamo un occhio alla chiglia qui dove siamo propulsore torretta chiglia che abbiamo sotto sicuramente qualche ramo o qualcosa perché oh forse mi indica il tetto perché siamo belli alti qui eh madonna guarda che bello che è oh da qui sembra anche più piccolino ok teniamo questa telecamerina qui la corsa silenziosa è disattivata perché stiamo veramente sciucciando tutta l'energia fermi qui davanti abbiamo il muro pericolosamente vicino pericolosamente questa cosa è bellissima ragazzi è bellissima perché al tempo stesso mi sento al sicuro ma minacciato e mi piace sarei curioso di sapere cosa succede se suona il clacson ma credo che lo scopriremo perché ogni tanto mi capita quando attivo la telecamera che ho il mouse troppo giù mi parte il clacson anche col click destro quindi no si aggrado battin spegni guau ok via 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 velocità ok se l'è preso se l'è preso con la cosa giù 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 ok ce lo siamo tolti di torno credo allora adesso il tutto sta nel ritrovare la cascata il prima possibile lui adesso è occupato con ecco di qua di qua di qua di qua di qua ci passiamo di qui qui ci vuole una manovra delicata così perfetto quanto siamo 632 di 900 metri mamma mia bellissima sta cosa giù 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 giriamo cominciamo a girare ce l'ha data una bella botta mamma mia spero di poterlo riparare energia al 70% accendiamo una t'ho detto che quando accendo i fari o guardo le telecamere succede sta cosa ok non danno allo scafo esterno rilevato spingi qui ok abbiamo abbiamo rotto in due punti abbiamo rotto in due punti probabilmente stiamo imbarcando acqua nella sezione di coda il motore è spento no spingi stiamo imbarcando acqua nella sezione di di poppa e qua che cos'è il oh shit ma anche qui stiamo imbarcando acqua ok qua non è allagato probabilmente è allagato nella zona del motore e qua sotto sotto di noi adesso no non è non si sta allagando ma non si sta allagando niente ma non c'è niente di allagato what cioè in realtà perdeva acqua nella cabina di pilotaggio basta ok allora 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 facciamo una cosa chiudi un attimo qui esco fuori a dare un occhio allora il danno dovrebbe eccolo qua ok è solo la parte esterna non ha bucato ah meno male lo posso riparare così non ha bucato la parte interna ecco l'altro ok erano danni superficiali proprio madonna è bello massiccio allora il ciclope cioè ha resistito a una mega sberla del dell'eviatano fantasma comunque questa storia delle porte tenuta a stagna è veramente manna e adesso siamo al 100% perfetto richiudiamo le porte qua della sala motori che le ho lasciate no non le ho lasciate aperte la cosa che in realtà più mi preoccupa è che a fare questa manovra abbiamo consumato il 30% cioè sono arrivato qua che quanto ero il 90% e passa cioè sotto sotto possiamo scendere proprio in verticale è davanti il problema piano piano come siamo messi sulla coda si è dato una drusciatina appena appena mettiamoci oh guardate che bello quando mi muovo i propulsori davvero spruzzano acqua che bello andiamo giù così quei cosi lì non dovrebbero assolutamente essere un problema per noi attenzione perché qui ci sono i come siamo messi sopra perfetto posso accendere i fari torna questi fari fanno schifo rischiamo ok di battere qua siamo molto vicini quindi andiamo avanti superiamo questo non so cosa c'ho davanti ok il muro è qui in questo caso sono comodi mettiamoci proprio muso muso con la grotta fermo siamo sempre al 70% telecamere giù come la coda è a posto qui dove siamo nel propulsore laterale siamo qui si capisce si capisce se siamo sotto perché non si vede il resto del simot comunque credo nel proprio del simot del ciclope credo che siamo nel propulsore laterale qua da qui dovremmo riuscire a scendere senza sbattere lì perfetto perfetto oh 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 dove 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 urca assumere fluidi immediatamente ok fermi un attimo eh lasciamo tutto qui tanto qua qua siamo abbastanza tranquilli oddio ma è inclinato guarda è inclinato guarda oddio che effetto mangiamo e questi li spezzettiamo tutti in realtà bastano così credo 1 2 3 4 1 2 3 4 eh a voglia avanza lo buttiamo allora ritorniamo a fare le nostre manovre da camionista super complesse un po' più avanti non dovrei sbattere no perfetto ok avviciniamoci un bel po' di qua l'energia è sempre al 70% quello che ha proprio succhiato tutto è la modalità avanzamento silenzioso quello proprio se la mangia la batteria è come airstone sul cellulare allora da qui allora laggiù c'era l'alberone fantastico e e dovevamo andare di là e dovevamo andare di là se non ricordo male comunque noi andremo di là possiamo scendere giusto 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 sai che mi è venuto in mente che dobbiamo caricare un'altra esca perché se qua non lo so se ci spunta un leviatano noi non abbiamo l'esca carica e perdiamo il ciclope dove l'avevo messa no proprio qui mi pare no qui c'è la batteriona non mi direi che non l'ho portata qui non mi direi che non l'ho portata qui no oh meno male meno male meno male meno male zitti zitti per un attimo ho avuto paurissima non si usciva da qui allora carichiamo abbiamo un'altra esca carica se si mette male abbiamo un diversivo ne devo craftare molte di più e portarle dietro molte di più possiamo aumentare anche la velocità quanto siamo attenzione perché siamo arrivati al limite del nostro ciclope oddio io poi glieli faccio che succede ok glieli faccio potenziamenti di profondità perché mi sta divertendo un casino andare con sto coso enorme dentro le grotte ma un casino proprio ok allora ci parcheggiamo qua andiamo ancora un po' più avanti proviamo proviamo qui si rischia di battere sopra ancora un po' più giù 880 884 perché siamo scesi così tanto l'ho presa un po' stretta questa la curva l'ho fatta male non sono un bravo camionista ok io direi di fermarci un attimo qui spegnere i motori siamo ancora al 70% va che roba spegniamo i motori spegniamo le luci interne perché non voglio attirare attenzione indesiderata dobbiamo essere un parte dell'ambiente noi qua e prendiamo il nostro bolide è a posto si è bello chittatino ah anche da qui posso caricare i missili wonderful allora sapete che vi dico io così vabbè no ora mi metto a mettere a posto le cose qui abbiamo braccio siluri e rampino perfetto jump jet e profondità che ci dovrebbe arrivare questo al mille quant'era mille 3 mille 4 mille 3 mi fa strano non poter accendere e spegnere le luci su sto coso secondo me c'è un pulsante ma io non lo conosco qui si va tanto giù cerchiamo una parete in modo che oh posso fare una discesa controllata ok quanto sarà profondo sotto sta nebbiolina novecento ok mille qui siamo a mille qualcosa questo cos'è rame mi da l'idea di rame tipo oro mentre questo invece litio oh che bello oh guarda che bello questa razza fantasma è venuta a studiare la nostra muta pro urca non volevo no 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 scusami no razza no no ah le lancia proprio via non le uccide ma è andata proprio fuori dalla mappa what the fuck cazzo non volevo aspetta ricarico un missile sto posto è bellissimo è in assoluto il mio preferito qui quanto andremo giù piano 1062 ok oh ma questo è un magmarang magmarang quello che si ha dato il tipo vi ricordo lui ce l'aveva come un animaletto domestico questo adesso ce lo leggiamo allora forme di vita locali erbivori piccoli magmarang questo organismo è il risultato dell'evoluzione del comune boomerang per sopravvivere in ambienti ad alte temperature colorazione la colorazione rosso scuro aiuta questa sottospecie a mimetizzarsi negli ambienti fatti di rocce laviche i dettagli arancioni che ricordano il flusso della lava scoraggiano i predatori più cauti ma che bello comportamento lievemente più audace dei suoi cugini abitanti delle secche ciò nonostante il magmarang fuggirà da ogni creatura più grande di sé ad una velocità impressionante valutazione commestibile ok uh e questo cos'è ah questo è quello che abbiamo visto nel laboratorio larva della lava forse è innocua oh che carina ah la c'è il guardiano della galassia altre creature strane forse queste sono altre larve della lava fammi togliere qua che si fa più veloce sì 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 palesemente un'altra larva della lava ok non paiono esserci altre creature strane nemmeno vegetazione ok rientriamo dentro la muta e leggiamoci la larva della lava necrofagi e parassiti larva della lava pericolosità non è pericolosa ok una specie simile ad una larva che sembra essere priva di vista e olfatto ma è in grado di individuare e consumare l'energia termica ed elettrica presente nelle sue immediate vicinanze wow ventosa ah che è quella che ha sotto questa qui è in grado di attaccarsi alle superfici lisce e di generare una suzione ad alta pressione si attacca si staccherà se sottopostano ad una sufficiente sollecitazione corpo delle spesse scaglie la proteggono dalle temperature estreme la larva della lava non possiede un apparato digestivo tradizionale ma alimenta i suoi processi interni tramite l'energia che consuma attratta da qualsiasi fonte di energia assorbe energia dalla sua preda per sopravvivere mica si attaccheranno la tuta valutazione evitare mentre si pilotano veicoli rimuoverla per conservare le batterie shit mica c'è qualcuna attaccata no no ok dobbiamo stare attenti impareremo ad odiarle credo quelle ok proviamo a scendere ma è un bel salto oh piano 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 ok 1100 ma che fa spara quello lo voglio studiare no no t'ho visto sai t'ho visto no no dai non ti voglio uccidere forza vai via vediamo che fa e te pareva ancora te devi andare cristo quant'è carina però giù 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 allora studiamo sto sto coso lanciarazzi qui cos'è lucerto la lavica meno male che ci abbiamo la tuta rinforzata ehi 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 adagio 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 ci volevo solo studiare rientriamo vediamo quant'energia ha succhiato dalla muta prone no niente perché ce ne siamo accorti subito allora larva della lava non è un leviatano per fortuna sto coso carnivori lucerto la lavica azzo pericoloso un predatore di medie dimensioni che si è adattato per vivere nelle zone vulcaniche ed è particolarmente abile a sputare roccia fusa ai suoi nemici mandibole frontali hanno lo scopo di infliggere più danni possibili alla preda gli affilati denti presenti all'interno sono in grado di penetrare ugualmente sia la carne che le ossa tessuto cicatriziale che è quello che ha sulla schiena probabilmente per via della costante esposizione al magma le lucertole laviche accumula uno spesso strato di tessuto cicatriziale nel corso del tempo che permette loro di resistere anche alle temperature più alte sia all'interno che all'esterno comportamento in grado di difendersi immergendosi nel magma sia di passare all'offensiva sputando roccia fuse sui nemici evitare specialmente in presenza di flussi di lava ok allora ricapitolando noi cosa ci stiamo a fare qua il nostro obiettivo primario al momento è andare giù no andare giù in profondità dove c'è il titano il leviatano da cui oh ma è un occhione morto mi sa occhione rosso cotto vecchio oh mio dio poverino l'ha cotto quel cosa mi sa dicevo dobbiamo andare giù sotto a quant'era 1400 1500 a prendere il leviatanone che possiede una qualche sorta di cura per l'epidemia qui cos'è questo penso sia piombo no titani ma per farlo ci serve l'altro potenziamento della tuta ci serve l'altro potenziamento della tuta che per poter fare questo per poter fare questo potenziamento della tuta dobbiamo trovare un minerale speciale tipo la sianite come era quella azzurra ci stiamo avvicinando pericolosamente al limite ma la ritrovo l'uscita poi si dai è tutta su temperatura 50 gradi non è neanche troppo madonna qui si va giù eh ragazzi qui si va prepotentemente giù 1200 c'era qualcosa se non sbaglio da ricercare qui no chissà dove si trova sta sianite ok rimaniamo qui sopra allora questo è scisto quello è nickel controlliamo facciamo cavolate nickel questo lo dovrei anche ricercare il nickel minerale di nickel questo è scisto ok che dice il nickel è un metallo mediamente duro e duttile molto utilizzato nella produzione di forti leghe metalliche applicazioni nell'industria delle costruzioni essenziali nelle fabbricazioni avanzate ok lo sappiamo ah è pieno dei dei poliziotti dell'oceano qui è buffo ma dobbiamo stare attenti anche alle buche così tra poco perché se si infila su una buca e andiamo sotto i 1300 si sfonda lo scafo della tuta e adios qui ce la svolazziamo siamo belli alti se possibile guarda lì ma lì è un bug o c'è una grotta devo andare a vedere tanto non sono 1300 qui vero no è un bug non c'è andare che se vado lì sotto con questo è la fine ci sono blocchi passiamo da sopra qua ho paura che mi cuore non so quanto resiste al calore statuta manuale no 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 vai via e niente ok manuale della muta prone progetti veicoli muta prone mk3 la nano tuta impermeabile è una tipologia di esoscheletro la tuta è completamente isolata dall'ambiente esterno potenti estremità idrauliche permette la manipolazione di oggetti una traversata rapida dell'ambiente mica tanto propulsori montati sul vetro provvede una certa manovrabilità in ambienti con poca gravità una vasta gamma di modifiche disponibili ma non ci dice quant'è la temperatura massima magari qui lo dice ma ecco il cavolo che lo vedo e vabbè lo scopriremo empiricamente qui è tutto 50 gradi ok è tutta scena sta cosa oh piano 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 oh qui si apre ah no allora avevo visto dei blocchetti di lava qua dove erano qui sopra o dove l'avevo visti l'avevo visti eh ah ecco tipo questi 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 che non sia un minerale che sta dentro i blocchi di lava no ok e qua fa troppo caldo anche con la tuta roba strana lì lì c'è dello zolfo io quasi lo prenderei un po' di zolfo sai ormai che siamo qui lasciamo in pace che c'è che c'è oh no si è magnato la larvetta guarda sti cosi mi ignorano proprio ma che cazzo pensavo di aver detto le ultime parole famose mi si è teletrasportato dietro andiamo giù ok oddio come mi perdo male qua dentro io me lo sento qua qua mi sa che siamo ai 1300 piano 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 ok no 1240 questo è piombo ma c'ho una pulce attaccata no solo nel vetro poi mi sa si attaccano oh eccolo 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 vai via te che ti tiro un missile sai una manta boni questa va studiata what sei innocua come tutte le mante giusto manta cre razza cremisi razza perché dico sempre razza ma maledetto mi hai fatto paura ma prenditela con le razze che vuoi da me dentro dentro leggiamo fauna erbivori grandi razza cremisi una delle razze più grandi sul pianeta mostra un comportamento generalmente docile spesse scaglie le scaglie che si sono formate sulla pelle quando sento quei ciuricici penso sempre che mi si attaccano sono formate sulla pelle e proteggono questa razza dalle temperature estreme permettendole di sopravvivere in aree non popolate da altre specie erbivore orbite interiori anteriori suggeriscono una storia evolutiva di tipo predatorio abbandonata molto tempo fa non commestibile come tutte le razze qua sotto non c'è cibo praticamente madonna guarda quei pesci ma cattivi che sono ora questo affare ok quindi io per prenderlo mi serve il trivellone giusto è necessario un equipaggiamento speciale per raccogliere questa risorsa la sianite ok bene quindi siamo venuti fino a qui in esplorazione e dobbiamo tornare indietro montare il il braccio meccanico lì il trivellone e tornare qua sperando che io non mi perdo madonna ma si incastra su ogni minimo sassolino sta muta vediamo acceleriamo i tempi pa mica se imparo a usare oh meno male che bella resistente se imparo a usare sta muta è divertentissima e qui saltiamo ci attacchiamo qui una maledizione se mi cadeva sto coso nella lava e si rompeva aia a voi un missile nel viso ma te l'hai trasportato a me sul missile ma che roba è e la tuta è rimasta ferma immobile lì ah si ah si eh dobbiamo salire sopra ora attacchiamoci per ricaricare i propulsori a pelo eh uh meno male che non si danneggia quando vado a sbattere sul muro perché sennò eravamo fottuti qui ok rimaniamo un po' attaccati qui via cerchiamo di attaccarci qua su voilà la donna si fa comodo il rampino eh e cosa tolgo dopo per venire qui i missili alla fine non è che c'è così tanto bisogno di missili allora il ciclope è lassù potrei andare tipo tarzan attaccandomi col rampino al soffitto guarda 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 oh che bello ops ok di qua e qui bisogna salire su no l'ho missato oh oh dio è pericolosissima fa sta roba però eh qui dobbiamo risalire lassù in cima borda ok aspetta facciamo ricaricare un attimo il jump jet l'ho missato proprio ah perfetto siamo tornati anche giusto in tempo per bere che meraviglia io sto adorando questo posto voglio venire a vivere qui che meraviglia guarda è in assoluto questo finora è in assoluto ci tengo a spendere 5 minuti per di sta cosa è in assoluto il momento più bello di subnautica in assoluto cioè venire qui guarda sto bastardo ma vai a succhiare ma come hai fatto ad arrivare qui devo stare attentissimo perché se mi succhiano l'energia del ciclope è la fine è la fine proprio beh che ho una batteria di riserva comunque vada però a parte loro guarda che già torna no ok dicevo il venire qua giù con il ciclope il pilotare il ciclope la fase platformina sulla lava con la muta prone questo posto meraviglioso qui con tutte queste mante è bellissimo è razze non mante è veramente bello cioè è stupendo stare qui dover pensare all'energia del ciclope a proposito come è messa dopo che l'affarino era lì che succhiava come un dannato è insomma è insomma non tanto bene non tanto bene comunque non lo so mi sta piacendo veramente veramente tanto questa fase del gioco e mi dispiace che presumo anzi non presumo sono praticamente quasi sicuro che sia una fase finale insomma da qua ci stiamo avviando pericolosamente verso la fine del gioco mi dispiace perché qui mi piace veramente veramente tanto ma tantissimo ragazzi io nel frattempo modifico la muta prone gli monto il braccio trivella al posto dei missili perché tanto non ci servono al massimo esco fuori piglio a sberle col coltello e andiamo a prendere la sianite nel prossimo episodio dopodiché penso che dovremo tornare indietro fino alla base più vicina che è l'alfa da qui la più vicina è l'alfa ah è la musica ok e modificare ulteriormente la muta prone con il modulo di profondità mk3 o mk2 non ricordo comunque alla prossima non ricordo l'alfa non ricordo l'alfa non ricordo non ricordo ancora non ricordo la mia